ragazzi piacciono gli smr no assolutamente no 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 dai raga venite dobbiamo registrare ho già iniziato ok quindi provi perché ho già iniziato si grazie proprio tu eri fondamentale per ricordarmi di fare la intro raga non mi fa più entrare su roblox iniziamo senza giulia ciao a tutti chiunque voi siate benvenuti in questo nuovo video del porcello più famoso di roblox stavolta perché il porcello si è fatto male alla gambina se ricordiamo naturalmente per chi non avesse visto i video precedenti guardate subito a vederli subito proprio se non ci siamo che no dai no scherziamo ovviamente di denunciarli no flavio non si scherza con queste situazioni non si spartano ci siete rotti comunque avete notato soffia cambiato nome nome vuoi dirci perché cambiato nome però primo leggo o se finalmente sveglio ascolta questo non è un posto sicuro o almeno non più per tutto tempo sono stato in sua presenza comunque per la millesima volta ha cambiato di cavolo comunque guarderò ho cambiato ho cambiato ho cambiato cioè ho cambiato il nome perché in pratica per il sbaglio l'app mentre stavo per entrarci già perché per la nuova niente io e ricordino siamo gli unici col computer o invece ragazzo se mi vedete con un nome diverso è perché il mio telefono si è rotto e quindi l'ho detto già nel video precedente ma lo ridico per chi non l'avesse visto che è preceduto che mi guarda e martella allora martella tutto no vai 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 a mattella a corre se ce la fa ha giocato una carota e la carota raga c'è la carota ragazzi e la carota vabbè qua giuliana si e no e e i tubi cavolo e martellano ci vuole vai 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 coladio cos'hai detto scusami martellano vieni fra la plank e non l'ho più ho preso la chiave arancione ora la prende la prende fai看一下 fai conflicts se ti conviene scappare e ti conviene scappare dai raga finitela no raga il coniglio mi sta assaporando la testa e ben sapere buono dai raga fini finitela così poi facciamo subito la mappa dopo infatti cosa viene e non mi ricordo metro metro penso di verde raga si mette un metro ma c'è il piglio la card verde ma c'è il piglio io sarò ovunque ma da nessuna parte allo stesso momento facci piglio dai vai dario ti prego dai dai i complimenti flavio la non lo puoi dire aperto card raga la prima come si chiama bottiglia biala già soffi di mandario questa sfiga come hai usato smembrarmi adesso non potremo vedere il finale per colpa tua vergogna 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 soffi hai due scelte o ti fai ammazzare e ok facciamo il finale tutti insieme già oppure mi fai impiegare più tempo per tagliare il video e il video esce dopo ti faccio impiegare più tempo ti odio beh dai spicciati ad uscire giugna ma che stai facendo ti strusci sui muri tranquilla che soffia non è in un muro soffi la dovevi sputare normalmente la dovevi sputare saltare 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 che qua salta vai soffi che esce ho vinto ho vinto ok becco salta skip comunque oggi ti ha parotti mi metti a me come pighi che io non lo sono mai in questi video ok per ora io non sono mai pighi ora metteremo soffi a pighi dai dai io fai vuole lei check ti sei scordata ho già votato tutto oggi sarò oggi sarò pighi chuec oggi soffia farò il pighi chuec cosa son chuec ma che ragazzi seguitemi tutti sul mio account di tiktok se vuoi lo lascio in descrizione dario pubblicizzi beh pubblici mettere al nome su il video del mio profilo profilo di soffia e mi farà pubblicità è dal mio suo è dal mio suo piktok mi raccomanda andatemi a seguire è dal mio suo piktok anche perché mi è davvero imperdibile fa balletti di ogni tipo molto wow c'è balla che bello non è interessante ballare seguiteli seguiteli perché io non l'ho seguiteli dario metti anche il mio in descrizione se vuoli e non mi ricordo qual è il tuo account non so neanche se ti sei bene tiktok come mi chiamo tiktok si tu ti chiami tiktok 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 raga ho il piktok perché ho cambiato account oh oh ho il martellano lo volevo io ah ragazzi stavolta la dobbiamo finire cioè e non vi fuggilo prima c'è conto dobbiamo finirla no almeno era una mappa la carta arancione l'avete presa? no la prendo io non riesco a prenderla sto mouse ok però c'è e sei fiera? io ho il martello non devi essere fiera lo sai ti fa male dai 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 sono troppo giovani per parlare d'amore e questo che mi ha ma chi sta parlando di amore? cioè scusa soffi non devi cantare ma poi sta facendo tutto da sola siamo troppo piccoli per parlare d'amore ma chi sta parlando di amore? grazie Dario che ho fatto? mi ha aperto la porta prendi quella ma chi ha fatto niente il porcelo? oh cavolo cosa? questa la metti al ramentatore no no ma 4 metri ho ucciso Flavio si ma da 4 metri Flavio ci stai deludendo infatti ho capito questa spunta questa spunta dalle 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 fogne dalle fogne dalle fogne l'inferno il microfono te lo stai ingerendo? come se fosse una giannozia dai Dario devi prendere la cosa lo adori devi prendere la cosa via 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 avevo capito un'altra cosa però ok ciao Giuliana no no girrete no possiamo restare così tutto il giorno ora 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 via grazie Giul prego e niente capoli no Giuliana è morta è di nuovo proprio scarsi proprio scarsi perché io sono fortissima c'è c'è sì dai comunque come pigi sono su una bomba cioè non potete negarlo attenti che tra poco esplode allora raga scrivete qui sotto nei commenti chi è il miglior pigi io ovviamente io ovviamente io no e infatti è ucciso tutti di nuovo sì così non vediamo il finale non ti prego di mettermi come pigi mettilo come pigi mettilo come pigi metto Giulia no io di nuovo sì sì facete schifo ok no non ti reputa nulla più scarsa poverino no perché Sofia l'ha appena fatto io non posso farlo perché altrimenti il finale non si vede Flavia io non volevo ho capito però è il finale è proprio il privilegiato perché è il più piccolo scusatemi sì no perché l'ha detto prima esatto ecco comunque siete proprio degli ospitali capito è un po' giovane per parlare d'amore basta il copyright il copyright il copyright se è flat tu ti scusci il microfono te lo lecchi la notte non hai capito lui sta giocando tramite il telefono nel suo stomaco no lui se lo lecca proprio lui perché lui ha come nel tablet e si è ingoiato il tablet invece nel telefono ha ah raghi troppo fuete perché altrimenti canse va avanti ha le cuffie ma io prima ho vinto quindi non c'è problema sei amici miei ah qui c'è una chiave verde nella stanza del liquame verde c'è la chiave verde che è caso esatto io ho la plank ah e con la plank fai grandi cose sì ma ho paura di ritrovarmi il piggy in faccia ho trovato una chiave ma il piggy dove spawna? è verso l'inizio tipo cioè capito no 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 qui c'è la chiave arancione bravo bravo no io ho la chiave verde però non so dove raga ho preso la carde arancione metti chiave verde fly dietro e niente l'ho messa raga ho il martellazzo martello vai vai fatto entra qua dentro Dario vedi cosa c'è non c'è nulla infatti wow mio dio Giulia mi stavi facendo venire un infarto e per fortuna ti ho scampata no aspettate resistete resistete che qua il coniglio spacca tutto e raga io non posso andare alla plank perché c'è Giulia sopra c'è anche la trappola e sinceramente non mi suicido resistete ho preso la trappola intelligente grazie l'avresti presa pure tu lo so grazie dove è la stanza del liquame dove devo mettere il liquame ragazzi la faccio in venti secondi lui è vicinissimo vai lui è una lei in realtà dove è che la devo mettere sta chi se il liquame vai no Giulia ti prego ti prego eh cioè dai che Giulia raga vi ho veramente vi ho questa è per colpa di Dario che mi ha detto che ce la facevo Dario ma Dario ora mi devi tagliare per forza su tiktok ma io l'avrei fatto comunque Dario non è vero non è vero non è vero ma che accento io ma chi ha parlato di te ma chi ha parlato Flavio no ma perché tu mi hai detto Flavio Flavio ma non è vero dobbiamo finirla sta mappa dai ti prego Flavio vai via si lo so devo correre via 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 mi ricordo dove è la stanza cavolo cavolo via ti piace bravo Flavio che si chiude bravo Flavio che si chiude negli stanzini bravo bravo intanto ti ho cato ma il martello è stato fatto io si ho fatto tutto col martello e mi sono pure grazie io sto giocando con lo slime ok te l'ho chiesto esatto ma ve lo volevo dire perché mi stavo annoiando è importante dai Dario dai usciamo sì il microfono qua dai vai 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 chi è grazie a Lello ok allora alla prossima partita lo fa Flavio loro loro ci hanno lasciati qui senza di noi oh mi devi immedesimare abbiamo bisogno di trovare un'altra via docetta mamma mia eh credo che tu abbia ragione sono molto hai ragione cioè ci hanno lasciati qui Banno c'è veramente c'è veramente c'è veramente Banno sta arrivando sì alleva c'è veramente oddio sta arrivando e Banno è un po' di tubante comunque oh ho fatto questo per il nostro bene mister potata in fine quindi metri al prossimo episodio ok ciao ragazzi ciao